Allora bambini, siamo qui per parlare di ocarina, lo strumento del nostro paese e dopo proveremo anche a suonarle. Ma prima di avere l'ocarina come la conosciamo adesso abbiamo questa cosa qua a forma di animale, questa è un'anatra, immaginate a forma di oca e da questo nome ocarina che vuol dire piccola oca. Ed era un giocattolo per bambini, non è che avesse delle grandi possibilità di fare della musica. C'era un ragazzo di Budio che si chiamava Giuseppe Donati che era molto bravo a fare le ocarine però lui era anche un musicista e quindi questo fischietto che faceva solo due note non gli sembrava sufficiente. E allora Giuseppe Donati, l'inventore dell'ocarina, appunto inventò insieme ai suoi amici questa forma un po' allungata dove ci stanno comodamente tutte e dieci le dita, i due pollici sotto e le altre dita sopra. Sentite, più apro i buchi più le note diventano acute, è la famosa scala musicale. Allora qua ho portato un po' di ocarine a tutto il mondo perché la cosa divertente è che l'ocarina non è rimasta qua a ferma a Budio, che si sarebbe annoiata un sacco. Invece è andata prima in giro per l'Europa, poi in giro per il mondo e adesso è uno strumento molto popolare soprattutto in paesi lontanissimi come la Cina, Giappone, la Corea, non so se sapete dove sono, ci vogliono più di dieci ore di aereo per arrivare là, sono circa diecimila chilometri. Si fa in tempo a vedere tre film mentre si è sull'aereo. Allora, per vedere se soffiate bene facciamo questo esperimento. Voi mettete la mano più distante possibile dalla testa e poi soffiate come per spegnere le candeline della torte di a questo punto possiamo prendere in mano l'ocarina, prendo una così, che è simile a quelle che avete voi che però sono di plastica, sono anche più belle, sono tutte colorate. Come si tengono le dita? Allora la mano sinistra si tiene di fronte a voi, verso di voi, così, e la mano destra invece all'infuori. Poi avvicinate l'ocarina alle labbra e poi fate quell'esercizio che facevamo prima, quando abbiamo soffiato sulla torta di compleanno. Uno, due, tre, via. Riposo, vai. Attenzione che deve essere uguale al suono, attenzione, uguale. Fa sentire tu. Un po' più forte. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.